Amici di Osservatorio Granata, siamo qua a Robaldo anche questa settimana, siamo venuti a vedere come procedono e se procedono i lavori per la realizzazione della Coverciano Granata. Buongiorno, faccio due riprese per i tifosi del Toro, no per cortesia, non vi prendete, abbiamo già avuto casini, per cortesia, se volete fare delle riprese a te te vi lontano per cortesia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!